L'almanacco della fede Di Padre Livio Cominciamo con il nostro pensiero spirituale Cari amici i giorni passano Noi forse ci siamo dimenticati Dell'ultimo messaggio Che si è aperto In un modo diciamo Un po' traumatico Per quanto ci riguarda ovviamente Quando appunto la Madonna ha detto Speriamo dunque Avete la Madonna e l'umanità Ha deciso per la morte Poi messo in apertura di messaggio Ovviamente Voleva dire che era anche Il tema su cui dovevamo meditare L'abbiamo fatto Poi alla fine del messaggio Però chiuso Dicendo che Di non perdere la speranza Nel cambiamento del cuore umano Effettivamente cari amici Le conversioni Non è che manchino Le conversioni ci sono Solo che è più facile Decidere per la morte Che decidere per la vita Per quale motivo? Naturalmente in questo momento Qui sto parlando Di quella morte Che più sta a cuore alla Madonna Che è la morte spirituale Cos'è la morte spirituale? Lei Madonna una volta ha detto Ha parlato In un messaggio Di Natale Della sua preoccupazione Per le almi che sono malate E vanno verso la morte spirituale Cioè la malattia dell'anima E il peccato E l'allontanamento da Dio Un po' la malattia del fiore Quando non riceve più acqua L'acqua della vita L'acqua dell'amore di Dio Quando non vede più il sole Si ammala e muore E quindi non c'è dubbio Come abbiamo già spiegato Che la morte spirituale Poi comporta ovviamente Nel fondo del cuore Quella presenza Diciamo di veleni Dell'odio Della superbia Della invidia Della gelosia Della cattiveria Che poi portano l'umanità A essere una rissa globale Minacciosa E pericolosa Per il nostro stesso futuro Cioè però La gente Trova più facile Seguire la via ampia Che porta alla perdizione Per quale motivo Cari amici Perché La via ampia Che porta alla perdizione Soddisfa i bisogni Della carne Le esigenze egoistiche Della carne E quindi L'egoismo personale Le fami personali Di mondo E l'egoismo collettivo Quindi Lunga quella strada Anche se poi Siamo scontenti Siamo insoddisfatti Ci rendiamo conto Che le illusioni Diventano delusioni Ci rendiamo conto Che il male fa male Però Ci rendiamo conto Che i vizi Ci tengono incatenati E ci privano Della nostra libertà Però poi Non abbiamo la forza Di Di dire stop Di dire basta Di dire Taglio Di dire Come diceva Renzo Tramaglino Nel Promessi Sposi Quando aveva superato Il fiume Ada Si era rivolto Verso il Ducato Di Milano Che dove Non gli seguivano Per catturarlo Dicendo Sta lì Maledetto Paese Anche noi Facciamo fatica A dire A noi stessi E al mondo Che Che frequentiamo E nel quale E che condividiamo E nel quale Siamo commensali Facciamo fatica A dire Sta lì Maledetto Paese E questo è il motivo Per cui La deriva Verso la morte È come dire È una deriva In cui non c'è più La libertà È la rassegnazione Alla schiavitù È la rassegnazione Al male E quindi È la rassegnazione Alla morte È perfino La rassegnazione Al nulla Al nulla Che verrebbe Dopo la morte Ma Noi Non Non esiste Nulla Cari amici Per quanto riguarda Per quanto riguarda Il termine finale Della vita Non esiste Nulla O esiste La divinazione La divinizzazione Di noi stessi E quindi La nostra partecipazione Alla natura divina O esiste La perversione E cioè E cioè L'elenco Di tutte le cattiverie Insomma Facciamo pure L'elenco Di vizi capitali Gli elenchi Del nuovo testamento Sono tantissimi Al riguardo Che esprimono Cioè La perversione Dell'uomo Creato Immagine Di Dio Cato Immagine Del suo amore Della sua bontà Della sua bellezza Della sua santità Che poi degrada E la verità Diventa menzogna L'amore diventa odio E così via Insomma E perciò C'è la degradazione Quindi La corsa Verso la degradazione Di noi stessi La corsa Verso L'avviso del male È una corsa Come dire Di una Pieta Che rotola Giù dalla montagna Che è difficilissima A fermare E va giù Con la forza Di gravità Insomma La via Della perdizione Va in discesa E ci trascina E questo Cari amici Il motivo Del successo Di Satana Cioè La ferita Va nella natura umana Originaria È tale Per cui L'uomo Da solo Con le sue forze Non riesce A dominare il male C'era il libero arbitrio Ma il libero arbitrio Gli sape di far Qualcosa Ma non Gli è possibile All'uomo Con il suo libero arbitrio Senza l'aiuto Della grazia Fermare la diga Del male Fermare la potenza Del male Che è in lui E che comunque È sobillata Dal principio Di questo mondo E che ha la cooperazione Anche del mondo Cioè Di fronte a questa A questa Diciamo Morte Possiamo chiamarlo L'impero della morte Di fronte a questo Impero della morte Tu non riesci Non riesci A erigere una diga Non riesci Con le sole forze Della natura umana Hai bisogno Della grazia E per quello che Gesù Ha detto Senza di me Non potete far nulla Ma la grazia Bisogna chiederla a Dio Quindi c'è bisogno Della preghiera Ma per pregare Ci vuole la fede Per pregare Ci vuole l'umiltà Per pregare Bisogna Caramici Quindi Cambiare totalmente L'impostazione Della vita Che Da una vita Senza Dio Diventa una vita In cui Si apre la porta Del cuore A Dio che bussa E che viene a cercarci Dunque Quello che volevo dire Questa mattina È questo Cioè La potenza del male Nel mondo La potenza del male Nel cuore dell'uomo Dopo il peccato originale È tale Che senza L'aiuto di Dio Non riesce a fermarla Per fermarla Ci vuole la grazia Della conversione E questo Cari amici È Una Una strada Molto più difficile Questo è il messaggio Che volevo darvi E alla fin fine Gli uomini Schiavi del male Disperati come sono Cheppure sentono Il rimorso Cheppure si sentono Infelici Cheppure sentono Come dire Gli echi Della disperazione In sé Intorno a sé Però quando Devono decidere Poi alla fine Rimandano a domani A dopodomani E continuano Lungo quella strada Fino a quando Si arrendono Si arrendono al male E diventano Prede del male E diventano quindi Come dire Quei cuori Che sono Induriti Talmente Talmente Avvolti Dalle spire Del serpente Che non riescono più A liberarsi Salvo per un intervento Speciale Di Dio In casi Straordinari Allora Cari amici Il mondo Ormai è in questa In questa Come dire E' incatenato Proprio Dalla 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 morte Spirituale Quando la Madonna Si ha deciso Per la morte Vuol dire Che si è arreso Perché Una decisione Della morte Non c'è mai Una decisione Libera Per la morte C'è Una Arresa Alla potenza Del male E si è arreso Al male Anzi Ha fatto suo Il progetto Del male E' passato Dalla parte Del diavolo In questo contesto Cari amici La Madonna Ci apre Uno spiraglio Di speranza Dicendo che però I singoli cuori Possono ritornare A Dio I singoli cuori Possono convertirsi Quello che volevo Dirvi adesso Cari amici Che è il messaggio Che voglio dare oggi È che la conversione È un duro Di grazia È un milagro Della grazia Ma la conversione È dolorosa Possiamo dire È dolorosa È gioiosa Del medesimo tempo Cioè è il dolore Che produce la gioia Per quale motivo È dolorosa È perché è un dolore Che produce la gioia È dolorosa Perché tu devi Tagliare I legami Col male Cioè tu devi Tagliare Alla radice I vizi Capitali Mortificare Te stasce Dare morte Dare morte Al male Cioè Esradicare È come quando Ti furono un dente Senza Senza fare Quando eravamo Diciamo Ragazzi Non sapevamo Cos'era l'anestesia Ci chiamavano i denti Senza L'anestesia Ovviamente Chi si ricorda Erano dolori Tremendi Con quelle tenaglie Alla fine Si tirava fuori Il dente del giudizio O altri denti Importanti Con dolori Tremendi Mi permetto Di paragonare La conversione Al dentista Del dopoguerra Quando non c'era Ancora l'anestesia Cioè Stradicare I vizi In particolare Alcuni vizi Che entrano profondamente Nel cuore umano Come quelli legati Per esempio Alla lussuria O alla lingua O alla malevicenza O quelli alimentati Dall'odio Insomma Per estirpare Questi vizi È come cavarsi i denti Anche molto peggio È un dolore Tremendo È un impegno Che non puoi risolvere In un momento In un giorno In due giorni Ci vogliono settimane Ci vogliono mesi Ci vogliono anni Ora Non dico che ci vogliono Un anno per convertirsi Dico però Che poi Dopo che tu Hai chiesto A Dio Hai deciso Di lasciare La via Del male E di percorrere La via del bene Salendo lungo la strada Del bene Che è in salita Dovrai fare Molta fatica Ma nella misura In cui tu estrai E come quando estrai Il dente cariato Che poi Sì Senti il dolore Poi dopo un po' Però il dolore Diminuisce E il dente si cicatrizza Così è per te Quando Quando estrai Quando tiri via Quando decidi Cioè tagli via I tuoi vizi È doloroso È doloroso Difatti molti Non si Non si convertono O recedono Dalla conversione Perché Non hanno la forza Di affrontare Diciamo Questa Questa Operazione chirurgica Che è la conversione Che indica Un no al peccato Un no al male Un no a Satana Però Se uno prende Questa decisione Che è dolorosa Che è faticosa Che bisogna ripetere Continuamente Fino a quando La vittoria Non diventa Consolidata Uno che fa Questo tragitto Nel medesimo tempo Sente aprirsi Nel cuore La gioia La gioia La gioia Della liberazione La gioia Della guarigione Insomma È come un'operazione Chirurgica Che senti il male Quando ti è passata L'anestesia Senti il male Comunque Ma pian piano Guarisci Sei sulla via Della guarigione Ma se tu restavi Non rifiutavi Di fare Questa operazione Se tu restavi In quella situazione Andavi verso la morte E così Gramicci È per noi Il nostro pericolo Adesso In un mondo Che ha deciso Per la morte spirituale Che ha deciso Di vivere Senza Dio Senza preghiera Senza comandamenti Senza sacramenti Senza legge morale La libertà Di fare quello Che si vuole Si è dato spazio In questo modo Alla potenza Del male Che si impadronisce Di noi E fa di noi Degli schiavi Fa di noi Degli zombie Fa di noi Dei forzati Lavori Forzati del male Che sono lavori Forzati quelli E così Man mano Andiamo verso L'abisso Della perversione Che è l'inferno Cioè l'inferno È l'abisso Della perversione Cioè il male È la corruzione Totale Di ciò che è bene Quello è l'inferno Che noi Anticipiamo Attraverso La resa Alla potenza Delle tenebre Ora La Madonna Quando ci dice Che l'umanità Ha deciso Per la morte Ma che I cuori però Non perdono la speranza Che i cuori cambiano Vuol dire Che noi Personalmente Possiamo E dobbiamo Usufruire Di questo tempo Di grazia Per sbarazzarci Del peccato Per sbarazzarci Di una vita Disordinata Per rimettere i fondamenti È un processo Di cambiamento Del cuore Che ha bisogno Di tempo Ma arriverà Un tempo In cui non c'è più tempo In cui bisogna Decidere subito È per quello Che la Madonna Dice Non aspettate Non aspettate il segno Sulla montagna Per convertirvi Allora sarà Troppo tardi Quindi Affrontiamo Con coraggio La via Dalla conversione Del cambiamento Di vita Che è dolorosa Ma gioiosa E che ci porta Sulla via Della vita Eterna Cari amici Che è quella Appunto Che Dio È venuto Insegnarci E lungo la quale Cristo cammina Perché lui è la via Che ci porta Verso la vita Perché Cari amici È così Che si è persone vive Attingendo Le fonti Del nostro essere E della nostra vita Che è Dio Dio è la vita La fonte della vita La fonte del nostro essere La fonte del nostro operare La fonte Dell'amore Che è Cari amici Per noi Diciamo La pienezza Della felicità Che possiamo già gustare Qui In questa vita Questo dunque Il messaggio di oggi C'è ancora tempo C'è ancora un po' di tempo Per decidere Decidersi per la vita E per il cielo Facciamolo Anche se è doloroso Anche se è faticoso Anche se comporta Cambiamento di vita Anche se dobbiamo dare Contocorrente Di confronto del mondo Perché Perché Da queste decisioni Nasce la fortezza E nasce la gioia Del cuore L'almanacco della fede Di Padre Livio Ma Grazie a tutti.